L'aggiornamento del diario di trading di questa settimana coinvolge ancora una volta il mercato del petrolio. Ben ritrovato in questo appuntamento, io sono sempre Damiano Zito, Price Action Trader indipendente, membro e collaboratore di questa community e quella che stai vedendo è Professione Trader, ovvero la rubrica settimanale dove ogni giovedì racconto le mie posizioni, il mio diario di trading con un conto reale da 10.000 euro che ho aperto come fase esperenziale del percorso di accademia che ho interpreso in Airforex. Allora, io sono già sul grafico del petrolio, o meglio, sono ancora sul grafico del petrolio. La scorsa volta ci siamo lasciati con una posizione che avevo in atto e che in realtà poi ho chiuso dopo il video, una posizione che avevo aperto, anzi andiamola a vedere dal diario di trading, una posizione che era rimasta aperta per diversi giorni, 19 giorni di mercato, dal 28 marzo 2024. Eccola qui, posizione che quindi è rimasta aperta fino al 23 aprile 2024, che avevo addirittura incrementato, ma poi dopo aver registrato il video, dopo aver visto un po' la close che c'era stata in mattinata, il mercato che sembrava poter spingere al ribasso e quindi andare a, come dire, verso, diciamo, minimi più importanti, ho deciso di chiudere più o meno con dei costi in linea con quelli del trimestre. Infatti questa è la considerazione, andiamola a vedere, la considerazione sul trade del petrolio del 28 marzo, eccolo qui, qui ci sono le mie decisioni, e proprio il 23 aprile, in orario pomeridiano, quindi non in end of day, decido di uscire praticamente quando c'è stata una dinamica in intraday, quindi andiamola a vedere un po', l'immagine sopra le celle, eccola qui. Quindi, diciamo, la forza che c'era stata, già, allora, nella mattina c'era stata questa candela, tra le, diciamo, tra le, appunto, sì, le 7, le 13, quindi la mattina delle 6 ore, questo è un grafico a 6 ore, eccolo qui, vediamo un po' se riesco a farlo vedere, sì, 6 ore, il grafico a 6 ore del petrolio, la mattina c'era stata questa debolezza in sessione europea, nel pomeriggio, quindi prima della sessione americana, comunque con il pre-market americano in corso, mi trovavo più o meno su questi livelli, questo poteva essere visto effettivamente come la conferma di quella che è stata poi la Pimbar, che aveva buttato giù il mercato da Aria 85, Pimbar comunque non faceva falsa rottura, sicuramente, ma che, insomma, in qualche modo mi ha fatto uscire, quindi ho preso questa decisione qui amministrativa, nel senso di mantenere, mantenere, per mantenere i costi all'interno, diciamo, di un determinato range all'interno del trimestre del primo anno. Decisione che poi, come si è rivelata, in realtà nell'end of day il mercato ha fatto tutt'altro, va bene, quindi si è chiuso in realtà, mentre io stavo qui a 80.97, lui si è, il mercato si è poi girato, e ha fatto una bella close rialzista. Poi c'è stata una successiva giornata, nera, diciamo, comunque che teneva, comunque stava sopra 82, successivamente, quindi nella giornata di venerdì, il mercato crea questa tailbar doppio minimo air close, che è stata praticamente la conferma, se vogliamo, del fatto che il mercato in questa zona qui, o comunque tutta l'area compresa tra 80 e 82, comunque è un'area di interesse e di tenuta. Però questa è stata, diciamo, è un ingresso che io faccio e mi dico, in giornata, dico, sono pronto a chiudere, dovesse ritornare direttamente a 82, e quindi praticamente con un costo inferiore. Adesso andiamo a vedere sul grafico. Ingresso sicuramente anticipato rispetto al settimanale, lo rivedo, lo rivedo visto ieri, oggi effettivamente potevo decisamente attendere una dinamica di conferma ulteriore, anche perché il daily si può ancora costruire, quindi non è proprio un'entrata tra le migliori e tra le più felici che abbia mai fatto nel mio trading. Quindi questa è la situazione. Allora, che tipo di decisioni ho fatto per la gestione del rischio? Andiamolo a vedere sul grafico. Andiamolo a vedere qui. Allora, io ho fatto questo ingresso, appunto, 83, 85 e 50, e con l'idea, appunto, che siccome c'era stata la tenuta del giovedì, probabilmente, vedendo il fatto che c'era stata la tenuta, mi aspettavo un movimento un po' più ampio, ma, se non di poi, dico, avevo comunque questa zona qui e anche se avesse avuto questo rialzo qui fino a zona 85, 84 e 50, comunque avrei potuto attendere il lunedì, ieri, oggi, per una dinamica di conferma sempre su queste zone, su questi livelli, per entrare con una conferma. Aver quindi fatto questo tipo di ingresso mi sottopone in questo momento a vedere un mercato un po' un pochino più laterale, range, diciamo, un po' più, meno direzionale, sicuramente, che in questo momento sta rimbalzando all'interno, no, di questa, diciamo, di quest'area, di questa zona. Ora, che cosa succede? Il posizionamento, quindi, del paracadute, nello stop, in questo caso, l'ho messo sul 100% della volatilità, la massima volatilità che si è espressa nell'ultimo periodo, che è quella di questa pin. Un posizionamento, lo stop, un pochino più calcolato algoritmicamente, se vogliamo, ma che sta ampiamente sotto questa zona di minimi, che è la zona, praticamente, della gamba più importante che c'è al momento sul petrolio, quindi questa gamba long, che è stata seguita poi da una gamba di ritracciamento, che è questa gamba qui, che non fa falsa rottura di questi minimi, e al momento tiene. È chiaro che adesso, da qui, diciamo, che ci sono due scenari, no? Uno scenario long, uno scenario short, scenario long, che è quello lì di conferma del movimento che arriva nel medio periodo, quindi conferma anche di questa gamba, conferma anche del setup settimanale, parliamo di questo settimanale qui. Ok? E quindi che cosa succede? Succede che a questo punto, con una situazione di questo tipo, nel momento in cui, già oggi, dovesse il mercato andare in close sotto sotto questi minimi, probabilmente io andrei a chiudere. E abbiamo visto poco fa, riprendo un attimo il diario di trading, andrei ad aggiungere, praticamente, allora io ho chiuso, per quanto riguarda i costi, il petrolio del primo trimestre, diciamo, l'ho chiuso, praticamente, con questo costo operativo. Quindi avevo fatto un ricavo di meno, in realtà, quindi 144,68 euro, mi è costato 144,68 euro questo mercato, e ho incassato 15,61 euro di interesse positivo. Quindi, come risultato operativo finale, abbiamo meno 129 euro di costo. e il mio investimento iniziale, sempre, diciamo, il mio stop mi porta, avevo un investimento di 250 euro. Se avessi, quindi, mantenuto il trade, anche mandarlo a paracadute, questo significa che avrei, comunque, costificato questa operazione con 250 euro al massimo. Io, invece, che ho fatto, ho chiuso, quindi ho preso questi 129 euro, e li ho amministrativamente inseriti nel primo trimestre dell'anno, e adesso, con questo ingresso, potrei aggiungere un costo, costo che, a questo punto, per, diciamo, per quello che stavo dicendo, potrei andare a, appunto, chiudere proprio sotto, sotto gli 82, e andare a quantificare più o meno, più o meno, intorno ai 65, diciamo, 70 euro di costo. Significa che, ovviamente, abbiamo avuto meno 129, diciamo, meno 130 euro di costo nel primo trimestre sul petrolio, dovessi chiudere qui, andrei a chiudere, con 70 euro di costo, e quindi meno 200 euro di costo. Con, diciamo, il vantaggio di aver contabilizzato, poi, non so perché, il, questo costo sul primo trimestre a meno 130 euro, lo svantaggio, chiaramente, di aver fatto due trade e avere in questo momento una gestione più attiva e un trade meno confermato a questo punto, che sarebbe stato diverso se fossi ancora dentro nella mia prima posizione, che effettivamente sarebbe ancora, probabilmente a, sì, sicuramente sarei ancora a costo, ma non avrei, appunto, già realizzato i, sì, i 130. Se avessi mantenuto, quindi, la mia posizione, probabilmente, starei sicuramente ancora dentro, avrebbe avuto senso, comunque, ancora controllare il costo, sicuramente, attorno, sempre attorno, attorno a questi livelli, ma probabilmente avrei fatto la stessa considerazione adesso, cioè, anche se avessi mantenuto la prima posizione e oggi, domani, il mercato dovesse tornare sotto gli 82, probabilmente avrei chiuso. Avrei chiuso anche in quel caso, perché, come dicevo prima, questa potrebbe essere vista come, dopo questo, appunto, movimento long, dopo questo movimento short, che è, al momento, un, può essere visto come, e lo è, lo abbiamo visto dal weekly, un ritracciamento ampio di questa struttura minimo, massimo, e, nel momento in cui il mercato continua, in realtà, a fare questo, questa, questo movimento ribassista, potrei vedere tutto ciò come, in realtà, un, una conferma di, di questa gamba short e anche di questo 1,2,3 un pochino più stretto, che adesso vado a, assegnare, il motivo per cui, diciamo, effettivamente, mi rendo conto di quanto, rischioso è questo, questo nuovo ingresso, che, che ho fatto sul, sul petrolio, è un pochino, più di bassa, bassa qualità, quindi, diciamo, un trade che effettivamente, non, non mi sta piacendo molto, per, per come, per come ho fatto, questo ingresso, anticipando, eccetera, anche perché, le valutazioni, le valutazioni, le potrevo fare meglio, nel momento, nel momento in cui, stavo davanti, davanti al grafico, è una lezione, che mi porto da, da questo trade, a prescindere dal fatto, che questo, magari, torna, torna in profitto, oppure va, va a cost, quindi, domani, oggi lo chiudo, dopo domani, vediamo un po', e quindi, situazione in questo momento, non, come dire, non, non chiara, effettivamente, su, su questo mercato, attenderò un po', il divenire, in end of day, e cercherò di, capire, se ha senso mantenere, ancora, questa posizione, oppure uscire completamente, e ragionare, insomma, senza coinvolgimento, su, su questo mercato, e, quindi, diciamo, queste, queste sono, le considerazioni, che, che faccio, su, su questo, su questo ingresso, che sicuramente, potevo probabilmente, attendere, anzi, senza probabilmente, potevo attendere, quindi, alla rottura, quindi, di, di questo, di questo massimo, dopo la, FTV settimanale, e quindi, entrare con, con una conferma maggiore, come, come effettivamente, da, da metodo. E, bene, per oggi, io direi che, che è tutto, abbiamo visto questo, mio nuovo ingresso sul, sul petrolio, dopo aver, portato a costo la, la prima posizione, sicuramente, eh, non una delle migliori gestioni, che, potevo, potevo fare, quindi, eh, mi porto, mi porterò sicuramente a casa, qualche, qualche lezione, anche, anche questa volta. fammi sapere, cosa ne pensi anche tu, se, eh, hai fatto questo tipo di ingresso, se avresti fatto, in un altro modo, fammelo sapere nei commenti, nel frattempo, se non l'hai visto, ti invito a rivedere, eventualmente, gli altri video, della, della playlist, dedicata a questa rubrica, o gli altri video, del nostro canale. Ti ringrazio, ti saluto, e ti auguro, soprattutto, buon trading. Alla prossima, Ciao.